sapevo che faceva quel verso qua ora vedi che ero già pronta all'albero è venuto bene però dai rifa però passa sopra il davanti di là allora te lo ritrovi giusto ma così è giusto per poi scendi qua e ma così sei giusto guarda che se sbagli tocchi dentro l'albero ti ammazzi quando fa il verso se gli scappa via vai rifa rifa se sbagli che in giù la ruota davanti devi farlo più alto non mi piace secondo me farlo più alto e scendi eh ma devi arrivare giusto eh devi arrivare giusto vai più in alto e scendi eh ma se arrivi lungo spiando ma vieni giù di qua eh vado più in alto qua quando tu salti su qua per fare quel verso lì devi arrivare qua non lì perché lì ti porta l'angolo se tu lo fai qua ti porta in mezzo se arrivi in mezzo giusto allora puoi saltare fuori ma se arrivi là giusto là e salti fuori e tocchi dentro ti ammazzi eh il rischio devi sempre calcolare un pezzetto eh vai luca vai luca vai te la devi solamente tirare capito te la devi tirare tutta sinistra io vi ributto dentro eh è solo un movimento di corpo eh sì non è così oh vedi che arrivi sempre qua no così vabbè allunga la diritta e non pensate di girare eh vai via diritto intanto non tocca più qua via allunga la diritta non c'è ancora una macchina bravo non è spettacolare ma funziona vedi non è spettacolare devi dargli più carico è più carico dietro e salti fuori ma un bel fiaschetto di vino però non l'acqua un bel grappino è